Nella mattinata dell'1 ottobre i carabinieri della stazione di Cotronei davo un'esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica di quel capoluogo, nei confronti di un 42enne del posto con l'accusa di atti persecutori. Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri a seguito della denuncia sporta dalla ex convivente dell'uomo, la quale raccontava agli inquirenti di subire violenze fisiche e psicologiche negli ultimi sei mesi. Veniva quindi attivata nell'immediatezza, mediante il coordinamento del PM di turno della Procura della Repubblica, la procedura del Codice Rosso che consentiva in breve tempo di porre termine alle continue violenze nei confronti della vittima e di trarre in arresto l'uomo attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.